Ben trovato dottor Tozzi. Si era parlato di una sorta di immunità per i medici che si sono occupati di tutti i pazienti in questo periodo covid, poi invece la cosa è decaduta, non se ne più parlato, come mai? In realtà viene comunemente chiamata immunità, ma di fatto è un oggettivo tener conto delle condizioni assolutamente eccezionali in cui si trovano a lavorare gli operatori sanitari e i medici in particolare di cui stiamo parlando, quindi condizioni che cambiano il profilo di rischio delle attività che vengono svolte per le condizioni in cui si lavora, per cui è ovvio che eventuali criticità in sorte nel corso del lavorare in queste assolutamente particolari condizioni si debba tener conto. La cosa è caduta perché nell'emendamento che è stato proposto in Parlamento è stato aggiunto un emendamento analogo a tutela, tra virgolette, del livello amministrativo e del livello politico su eventuali errori in questa fase pandemica. errori che avrebbero potuto coprire le responsabilità anche molto chiare nell'approvvigionamento e nel fornimento delle protezioni al personale sanitario. Questo francamente non è tollerabile, è stato bloccato, ma ha trascinato in questo blocco anche la componente sanitaria. Noi abbiamo chiamato i medici in questo periodo eroi, li abbiamo chiamati angeli, loro non è che abbiano gradito molto perché questo è il loro lavoro. Noi sicuramente presto ce li dimenticheremo, insomma ricadranno nel dimenticatoio perché comunque molti di loro non sono ben pagati, problemi ce ne sono tanti e soprattutto uno di questi grossi problemi è anche il problema della violenza contro i medici. Una di quelle tematiche che la CISL Medici Lazio ha affrontato molto spesso, i loro segretari, i vostri segretari se ne sono occupati tanto. Che cosa sta facendo per esempio in questo periodo in cui si è sentito di nuovo riparlare? Un caso abbastanza recente per esempio all'ospedale di Anzio, una dottoressa è stata aggredita recentemente all'ospedale di Uniti di Anzio ad esempio. È una situazione molto molto delicata perché è un problema storico, quindi le aggressioni fisiche ma anche non fisiche, vorrei specificare che le aggressioni verbali e non verbali anche sono particolarmente impegnative soprattutto nel personale front line, quindi parlo per esempio dei pronti soccorso eccetera. È un problema che in queste condizioni in cui ci si trova a lavorare, quindi oltre che nei reparti covid, ma questo livello di pressione estrema direi in alcuni momenti si ripercuote anche su tutti gli altri reparti dell'ospedale, per cui se ci mettiamo sopra le intolleranze di alcuni non tanto pazienti ma parenti o amici dei pazienti diventa veramente impegnativo. È comprensibile che non poter vedere i propri parenti crea un disagio e un disappunto, ma c'è sempre ancora in queste situazioni una piccola percentuale che diventa, diciamo, aggressiva e questo nelle condizioni in cui stanno lavorando francamente è veramente pesante. Diciamo che tutta la situazione della pandemia è ricaduta francamente sulle spalle dei medici, ma anche degli infermieri e persino di tutte queste persone che ringraziamo perché sono gli addetti alle pulizie, per esempio, di tutti gli spazi ospedalieri. Non ce li dimentichiamo. Non avverte che le istituzioni, per esempio, siano state un po' opportuniste pretendendo che venisse salvata la vita a tutti, non dando gli strumenti necessari ai professionisti della salute? Io penso che le amministrazioni sanitarie si siano fatte cogliere impreparate. Ci può essere stato, anzi sicuramente c'è stato da qualche parte un franco problema di competenza tecnica, perché alcune cose non possono essere improvvisate e lasciate al buon senso, quindi mi servono delle competenze specifiche e francamente il comportamento del personale sanitario, tutto, perché è comunque una squadra, una falla in una delle componenti professionali si ribalta inevitabilmente su tutte le altre. A noi non piace essere chiamati eroi perché facciamo il nostro lavoro, lo facciamo al meglio, però c'è anche un diritto umano, un diritto professionale e un diritto anche come puri e semplici lavoratori di essere tutelati nel fare il proprio lavoro. Questo non è stato sempre fatto. Il problema principale è se ci sono più di 150 medici che sono morti e più di 21 mila del personale sanitario che sono stati contagiati vuol dire inevitabilmente e inconfutabilmente che c'è stato un problema di approvvigionamento e di distribuzione dei dispositivi di protezione. Lei pensa che la data del 4 maggio per iniziare la fase 2, o meglio come qualcuno ha detto la fase 1 bis, sia un po' forzata o no? Stante alle elaborazioni fatte molto molto bene da parte del comitato scientifico, questo comitato avrebbe preferito un paio di settimane in più per stabilizzare la curva di dismissione dell'epidemia, però ovviamente a livello politico c'è stata la necessità di tener conto anche di altre esigenze e la scelta è stata fatta politica. È un compromesso, ovviamente come sempre, quindi tra i due mali minori, quindi o soffocare l'economia e i piccoli lavoratori autonomi oppure avere una maggiore sicurezza. Probabilmente è stata fatta una scelta abbastanza giusta, purché venga fatto un ferro monitoraggio di ciò che accade nel territorio in queste ore, nei prossimi 15 giorni è fondamentale. Grazie dottor Tozzi. Grazie a lei.